Nastri, Vino Rosso, Viola, Vampire, Vireo, Verdicchia, 2060, Victor, Volton, Vagabondo, Volavia di Noa, 2080, Solitario, Virkan, 2100. Totalizzatore orientato verso Vampire Night, c'è Gaetano Di Nardo, Insalchi. Mi ricordo che partono in quattro, eh? Vampire Night, molto sollecito, va al comando all'attacco della piegata, nei confronti di Viola Jet che serra prontamente. Cavalli a metà della prima curva con il favorito, quindi al comando. Vino Rosso, forse era preferibile il bianco, è di galoppo e finisce a tabellone. 15 e 2 a partire, e così Vampire Night a fare andatura nei confronti di Viola Jet. Ci affaccia un po' Viola perché Vampire non fa proprio un'andatura sollicita, poi Gallo torna buono buono lungo i birilli. Poi c'è Viola Jet, abbiamo un 31 scarsi, 400, e cavalli che affrontano la seconda curva. 600 in 45 abbondanti, quindi diciamo che ne è venuto fuori quasi una corsa tattica, poiché il favorito al comando può portare il cronometro dalla sua parte. E' venuto via anche il vagabondo per linee esterne, 1-1 e mezzo, il mezzo miglio. Ora riparte Vampire e mantiene il comando, l'errore di Viola Jet. Siamo al completamento e chiusura del primo chilometro, sul mio in 16 e 7. E cavalli che affrontano la penultima curva, con il ghiaccio del nord sempre a fare andatura, ora è stato anche stappato. Mezzo miglio alla conclusione, una frazione in 15 e 4. Vampire Night, Viola, come sono partiti, poi via via tutti gli altri. Vagabondo fa ogni tanto una mezza ruota. La frazione di fronte è in 14 e mezzo. Ha messo un po' il carburation il leader, riallunga e mantiene il comando. Gallo fa gli straordinari con la sua Viola Jet. Il miglio è 1-59-9. Va via di gas ancora bene Vampire Night. Cavalli al completamento della curva finale. Il ghiaccio del nord se ne va, se ne va. Ma galoppa! Attenzione galoppa! E così freeway per Viola Jet nei confronti di Vagabondo e gli altri. Vittoria fortunata da parte di Viola Jet. Ma possiamo dire che per Gallo la fortuna è un optional. perché ha sempre i cavalli in grande ordine, guida bene e quindi un po' di fortuna ci vuole sempre. Sirena intanto della giuria. Quindi tut sub iudice. 1-15 e mezzo. Attendiamo la giuria per l'esito del firmato. 순12. Grazie mille! ... ... ... Grazie a tutti